Dopo la emozionante e partecipata cerimonia di inaugurazione dei 34esimi giochi nazionali invernali Special Olympics che si stanno svolgendo a Sappada, la manifestazione adesso entra nel vivo. Ottimi i risultati raggiunti dagli atleti del Team Sport L'Aquila, impegnati nelle gare di sci nordico. Dopo la giornata dei preliminari, gli otto atleti aquilani si sono cimentati nelle prove dei 500 metri e 50 metri tecnica classica. Il tutto si è svolto sulla bella e innevata pista borgata Palau, preparata a regola d'arte dallo sci club Kamoshi, sotto un cielo molto nuvoloso dove comunque gli atleti hanno espresso il meglio di sé, sfidando anche la pioggia. Ricco il bottino del Team Aquilano che al termine conquista una medaglia d'oro nei 50 metri con Anna del Beato, tre medaglie d'argento con Jacopo Fiorenzi, Mirko Curtacci nei 50 metri e Paolo Aquilio nei 500 metri, tre medaglie di bronzo con Cristian Dervisci nei 500 metri, Francesca Colagrande e Fabrizio Capannolo nei 50 metri ed un quarto posto di Agnese Rocchi. Gli atleti sono stati premiati dal campione olimpico di sci nordico Silvio Fauner.